Direttamente dall'Argentina, Gauchos vi presenta i migliori piatti della cucina sudamericana. Carne alla braccia di primissima scelta, pizza fragrante cotta con forno a legna, primi piatti, antipasti speciali e dolci tipici. Il tutto accompagnato dai migliori vini e birre artigianali in un ambiente particolare, con aria esterna e spazio per i più piccoli. Inoltre, servizio da asporto. Ristorante Gauchos vi aspetta in via Mattia Battistini 606. Vieni a respirare il calore di una terra latina.